Ha fatto il giro dei social la notizia trapelata dal comune di Castiglione Fiorentino e rilanciata da alcuni organi di informazione che la regione toscana avrebbe stanziato ben 9 milioni di euro per la prevenzione sismica del comune della Valdichiana. Una cifra abnorme che infatti si riferisce all'intera regione toscana, come dimostra il verbale della seduta del dicembre scorso della giunta regionale con cui si definiscono i requisiti e i criteri di attribuzione delle risorse relative agli anni 2012, 2013 e 2014 per interventi di prevenzione sismica su edifici privati. Si tratta appunto di quasi 9 milioni per i comuni a rischio dell'intera regione. Con un ulteriore requisito, la giunta regionale ha stabilito che i fondi dovranno essere utilizzati in modo prioritario per i comuni della Valtiberina, cioè Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Piave Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino. Gli altri comuni della regione si spartiranno la rimanenza. Tra questi quelli della Valdichiana e dunque anche Castiglion Fiorentino. La notizia dunque dei 9 milioni nel solo comune di Agnelli era dunque destituita di fondamento, come ha fatto presente il PD comunale che parla di bufale un tanto al chilo. Ora diranno che la colpa è dei giornalisti che hanno fareinteso. Peccato che il sindaco, si legge in una nota, avesse postato la notizia su Facebook, salvo poi cancellarla. Il trucco è sempre il solito, sparare cifre iperboliche che colpiscono la fantasia della gente e conquistano un titolo sui giornali. e poi quando sono smentite si incolpa qualcun altro.